Piacenza è in quella parte dell'Italia che è un po' più avanti con la curva epidemica, quindi come la Lombardia abbiamo già cominciato la discesa, quindi ci aspettiamo numeri in discesa per le prossime settimane, non chiedeteci in questo momento di sapere di quanto scenderanno, perché non siamo in grado di dirlo e ovviamente speriamo di non essere smentiti da qualche nuova variante, qualche nuovo occidente che dovessero essere fuori nelle prossime settimane. La pressione è ancora altissima, perché comunque pur in discesa parliamo di più di 6.000 positivi nell'ultima settimana, la pressione sulle strutture ospedaliere è alta, gestibile anche eventuali ulteriormente, però è ancora alta, però forse cominciamo a vedere la fine di questo quarto tunnel in cui ci siamo ritrovati nell'ultimo mese e mezzo. Se non la fine, almeno la luce in fondo al tunnel.